benvenuti a tutti qui sono armando pisani sono insegnante di matematica e fisica attualmente insegno presso il liceo linguistico e scientifico michelangelo buonarroti di mufalcone a gorizia in questa playlist trovate la raccolta delle lezioni del mio corso di fisica che ho tenuto nell'anno scolastico 2014 15 presso liceo classico dante alighieri di gorizia le lezioni sono rivolte ai ragazzi del quarto e del quinto anno e di quell'epoca e riguardano la dinamica la gravitazione universale i fluidi e la termodinamica la registrazione delle lezioni a suo tempo e l'attuale conversione recenti loro conversione in un formato adatto youtube è venuta grazie al software sviluppato da enrique canessa un presso il science dissemination unit del centro di fisica teorica di trieste e quindi enrique ma il mio più grosso ringraziamento e spero tanto che le lezioni vi siano chiare e mi siano utili per approfondimento e per studio vi invito ad iscrivervi al corso e in caso di domande o di chiarimenti potete scrivermi all'indirizzo email che trovate in descrizione grazie buona visione e buono studio